we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi abbiamo un bel po di novità di cui parlare per quello che riguarda il futuro di fortnite ci sono stati degli aggiornamenti e delle nuove immagini che arrivano da un leakers abbastanza sconosciuto riguardanti la copertura del compleanno che verrà data il regalo ma parleremo anche del vecchio del caro buon vecchio jarvis che fa cose che non dovrebbe fare vi dico è di tante novità per quanto riguarda i nuovi bandoli nuovo pack e gli sconti prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta del concerto che si è tenuto da poche ore del signor dominic fai per tutti quelli che l'hanno visto ragazzi dai come vi è sembrato scrivetemelo qua sotto nei commenti è stato fatto in diretta nel palco principale del party royale ma se ve lo siete persi dovrebbe esserci una replica due volte lunedì 14 una mi sembra di ricordare che sia alle 19 comunque se andate nella pagina ufficiale di fortnite troverete nelle news tutte le informazioni davvero bello come sempre avere delle collaborazioni musicali sul party royale che secondo me con l'arrivo di questa season è un pochettino lasciato ai fatti suoi dovrebbero invece dargli una bella spinta perché è un option davvero fighissima da utilizzare andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché volevo farvi vedere una cosa che in tanti mi hanno scritto effettivamente e ha senso ovvero sia il bug che purtroppo c'è e non fa esplorare una delle zone in mappa quella praticamente che rimane vicino alla mini agenzia quella proprio sopra foresta fregnante guardate questo spezzone video che vi fa capire come sbloccare quella parte di mappa insomma dove è apparsa per ultima la nuova mini location come avete visto ragazzi si va proprio completamente da tutt'altra parte dovete andare a destra dell'autorità e da lì potrete finalmente sbloccare quell'area che altrimenti rimarrebbe oscurata credo che comunque venga fixato questo bug con la patch 14.30 quindi non vi preoccupate andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è una bella notizia per tutti i possessori di xbox come sapete ragazzi vi avevo parlato già ormai un paio di settimane fa del nuovo bundle che era stato annunciato ufficialmente anche questo lo trovate nella pagina delle news di fortnite dedicato a joker poison ivy e una variante di mida non abbiamo idea del prezzo ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 euro però per i possessori di xbox sarà disponibile disponibile un bundle che come vedete al prezzo di 22 dollari e 79 vi permetterà di avere un accesso anticipato al nuovo set quindi tanta roba ragazzi anche per questo direi che è molto bello il joker ci sta veramente tanto le altre due skin si poison ivy è carina la versione di mida sinceramente potevano risparmiarsela avrei messo dentro un pinguino per dire proprio per rimanere a tema di batman quindi 8 euro di sconto non sono da buttare via se siete dei collezionisti non lasciatevi perdere questa occasione andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle novità che sappiamo verranno fixate nella patch 14.30 appunto sono le top issues praticamente i problemi principali ne leggiamo giusto un paio slow glider speed after red flowing questo purtroppo capita soprattutto quando si prendono i rift se prendi il rift in game può succedere che hai lo slow glider quindi l'apertura più l'apertura normale del paracadute ma il processo di avanzamento molto più lento ed effettivamente è una cosa che anche a me è capitata spesso e da fastidio verrà fixato ovviamente fishing spots can disappear on pc when with effects low e questo è un'altra cosa veramente brutta se utilizzate la grafica al minimo più o meno come facciamo quasi tutti per avere più performance su fortnite molti punti di pesca spariscono ed è una roba che in realtà c'era già anche la precedente season quindi meno male che se ne sono accorti verrà fixata e rimarranno sempre visibili per leggere su salva al mondo redline ramirez commander perk non funziona correttamente quindi il perk di ramirez redline verrà fixato e ovviamente un problema da mobile inconsistent fishing spot visibility on nintendo switch and android quindi hanno anche lì dei problemi con la pesca giustamente stanno dando tanta tanto spazio al discorso pescare i pesci quindi sono anche più punti di pesca ci sta che fixino i problemi ci sta anche che ci sia qualche problemino andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è semplicemente un fun fact quindi una curiosità si parla direttamente con justin holt che è uno dei capoccioni del team di epic games che gestisce il comparto grafico quindi il disegno la colorazione e così via delle skin e ha detto che galactus sarà una delle skin più belle che arriveranno su fortnite anche perché ci hanno davvero messo tonnellate di lavoro per renderla perfetta e unica quindi sappiamo che galactus arriverà ovviamente per adesso lo vediamo ancora brillare nel cielo non è neanche detto che arrivi con la 14.30 ma quando arriverà sapendo anche che è una skin disponibile ce ne sarà davvero di tutti i colori da vedere andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché il nuovo bundle abbiamo unirli look quindi lo vediamo in game come sapete ragazzi il pack che comprende tre skin la femmina del cavaliere del ragno shogun e porca misera non mi ricordo mai come si chiama il tizio è in fondo quello che ha due colorazioni come vedete è molto carino perché sarà possibile averlo in due varianti la variante white e la variante corrotta quindi come un po come la palla 8 quella che abbiamo già visto nelle precedenti season la particolarità di questo bundle è che non dovremo livellare il personaggio per averlo corrotto ma ci sarà una comodissima barra che ci farà scegliere appunto il livello di corruzione ovviamente con le tre skin arrivano anche i tre backpacks e quindi un bundle a parer mio particolare devo dire che non mi aspettavo di vedere una cosa del genere però anche qui se siete dei collezionisti se il bundle vi piace mettete in conto di spendere qualche soldino perché anche qua siamo circa sui 15 euro e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché come vi anticipavo a inizio del video ci sono arrivate delle immagini da parte di un nuovissimo leakers che per adesso vuole rimanere in forma anonima queste due immagini le avete già visto ci stiamo ovviamente riferendo alla wrap del compleanno quindi alla copertura che verrà regalata con le nuove sfide del terzo compleanno di fortnite ed ecco qua ragazzi la copertura in game imbracciata da thor sopra una mitraglietta davvero molto molto bella è al cento per cento gratuita e andrà a completare il set di compleanno che è stato sbloccato fino adesso quindi il piccone con la fetta di torta e il backpack con la torta e il numero uno sopra con la candelina insomma ragazzi tante cose anche per questo video news io per adesso mi fermo qua ma vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali lasciate un bel pollice in in su e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao 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 ciao